Buon pomeriggio a tutti, una piccola precisazione, la questione delle domande, non vi concederò di fare domande ma mi auspico che ci siano molte domande a questo tipo di seminario. Proprio per dare la possibilità di partecipare un po' a tutti, di chiarirci rispetto agli argomenti che andremo a trattare, imposterei il pomeriggio in questo modo. Sono tre gli interventi, anche se i relatori saranno di un numero superiore, saremo in cinque a parlare, comunque tre interventi che dureranno ciascuno indicativamente sui 40 minuti, poi daremo tempo, una quindicina di minuti per un primo giro di domande, alla fine dell'ultimo intervento ci sarà possibilità sia di fare domande sull'intervento stesso che sugli altri interventi. In generale si chiuderanno i lavori alle 5, diciamo sicuramente, se magari si finisce prima, ci andiamo via un po' prima. Per quanto riguarda allora il pomeriggio di oggi, il seminario di oggi, quello che tratteremo sono tutti quegli aspetti che hanno a che fare con i cambiamenti climatici, cioè tutto ciò che si sta cercando di fare per mitigare questo tipo di fenomeno, mitigarlo a due livelli, quindi il primo riguarda la possibilità che le emissioni dei gas serra diminuiscano per evitare che quel tipo di fenomeno avvenga con intensità sempre maggiore e dall'altra parte, che è un po' lo scopo maggiore della giornata di oggi, è quello di cercare di capire come contenere gli effetti negativi che questi cambiamenti climatici hanno sui contesti delle nostre aree, delle zone temperate e poi soprattutto sull'Italia perché a seconda dei contesti in cui si ha, quel tipo di effetto cambia. Proprio per questo abbiamo tre interventi che tra di loro si integrano. Il primo intervento che sarà gestito da Luca Bisogni e Sergio Malceschi tratterà il tema dei servizi ecosistemici. Servizi ecosistemici che vengono visti all'interno delle reti verdi e che possono costituire quei riferimenti che consentono di mitigare gli effetti ambientali a livello sia territoriale sia urbano che a livello di quartiere. Il secondo intervento invece affronta, che sarà gestito da me e da Chiara Cortinovis, invece affronta il tema della mitigazione delle ondate di calori, che è quel fenomeno che ormai tutti conosciamo in questi ultimi anni per cui diventano invivibili le nostre città. E quindi si inizia a capire come è possibile iniziare a tener conto di questi fenomeni e cercare di affrontarli e quindi riuscire gradualmente nel tempo a limitarne gli effetti. Il terzo intervento è un intervento di Lorenzo Bono, tratterà invece il piano di adattamento del Comune di Bologna. I piano di adattamento sono una nuova generazione di piani, nuova, relativamente nuova oramai, comunque sicuramente dal punto di vista applicativo nuovissima, ci sono poche esperienze e sono proprio piani che cercano di affrontare il tema di come intervenire per evitare che l'insieme dei fenomeni quindi legati ai cambiamenti climatici abbiano effetti devastanti. Quindi pensiamo al problema non solo dell'indato del calore ma come sapete dei fenomeni alluvionali, le questioni delle precipitazioni che sicuramente sono aspetti che caratterizzano fortemente il territorio italiano nei periodi non solo ormai classici delle piogge ma come avete visto ormai anche nel mese di maggio, quello che è successo vicino a Dancona in questi tipi di giorni. I tre interventi sono fortemente integrati tra loro, nel senso che i servizi ecosistemici sono uno degli aspetti rispetto ai quali si può pensare di contenere determinati più effetti e dall'altra parte limitare le emissioni di gas serra. Dall'altra parte quindi vediamo con gli interventi delle ondate di calore una serie di interventi più specifici e gli interventi relativi alle ondate di calore all'isola di calore urbana sono interventi che si collocano all'interno dei piani di adattamento. Chiudo qui il mio intervento, lascio la parola a Luca Bisogni che inizierà con l'intervento sui servizi ecosistemici, con lui visto che vi dividete l'intervento quando mancano 3 minuti e 20 minuti gli faccio un segno e così. Scalate 3-2, perfetto, allora diventa ancora più interessante e divertente. Ok, grazie. Grazie.